ragazzi ma alberto albi ci sei no albi è un ma si ah ok è mi sa che ci vengono si 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 no mario non uccidete oh ha tirato uno no 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 si prego terra uno un attirante l'atterrata lasciava 100 e se sta arrivando sta arrivando no c'è zero colpi del cecchino bb anche perchè l'atterrata col cecchino mi sembra no vabbè c'è ragazzi due volte nei giro di tre schiondi vabbè c'evi 30 marione abbe è lì dentro abbe si 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 ma è ma ma che co è esploso no 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 bovi non è sottopato st a terra a terra a terra vai vai giuro Vabbè vola intanto Due Vabbè lo resti Vabbè lo resti con cento siamo in safe Ragazzi ma Alberto Albi ci sei? No Albi è un Ma Pistolo oro Ho visto C'è uno scudone poi anche Raggiungere il massimo di saluti e scudi Ma come? Oh mi hanno sparato Sì da lì Sono in due Guardi stavo dicendo Che si è accarezzato il cucciolo Nooo Forziere Oh ora è attaccato Ragazzi Non sono gli ultimi scemi nemmeno vesti No bimbi Vi trago Vi trago aiuto No 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 Ora vesti con la lancia del raggio Puffa Una terra Dov'è? Oh Oh bella questa Ragazzi ho tolto lo scudo Mamma mia che potenza Dov'è? Eccolo laggiù Quello Come fa Non può Non può È un bot Dai Questo è un bot No 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 Lui Uno laggiù in fondo Che sta facendo il medici Trimente correva Cioè Non puoi Io l'ho visto Chiaramente L'hai visto? C'è C'è Ma cosa vuol dire? Eh ma come fa Io ero buono Ah non è stato a borgo Grazie C'è gente lì eh Eh Beh Sì Pronti con le pistole Mi raccomando Aspetta prima Prima colcetti Sono in tre Aspetta 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 Li vedi cosa fanno Qui su fin Su 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 Sì Oh Sì 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 Oh Ah che fava Boia B Ho fatto 62 62 1 1 Senza scudo Bravo Mario Bravo Mario 2 Dov'è il terzo? Vieni qua Vieni qua Vieni qua Destra No 58 Bianco Bibi Ok Prima costo Prima costo Prima Sì 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 Sette Sei Cinque Parte E andiamo subito via Un cibo di blocco Lo sapevo Ma questi Pensano di gioco Scusa Andiamo in safe Andiamo in safe Tanto loro franzo Avranno finito i materiali No non sono in safe Sul ponte Sul ponte Sul ponte Sul ponte Sul ponte 26 Roto lo scudo No spesso Un pieno Vabbè 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 Ragazzi Io vi volevo solo dire Grazie No davvero Ti sei fatto una vittoria No davvero